aspetti aspetti porco cane no 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 si levi di li siamo bloccati qua siamo bloccati qua la situazione è riuscita a bugare la mappa sono harry potter aspetti non mentre sono dentro ah ah non l'è partito ah è partito vi faccio uscire a signorina mi dia una mano cortesamente mi assista lei che ce la faccia d'assistente ti assisto ti assisto no 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 non mi butti verso la ventola deve solo tirarmi il braccio mi si incricca ogni tanto ti assisto tra cosa fa mi metta giù mi metta giù arrivo adesso ti metto no guardi che la porto in galera ok ho fatto ha fatto ha fatto ha fatto ha fatto a posto ha fatto signorina mi molli scusi sono uno youtuber ed è di notte e poliziotto di giorno che faccio appunto lei che mi fa mi fa le linguacce ma io sono delle forze dell'ordine io la arresto via la dichiaro in arresto in nome della luna o della giustizia cioè scritti se l'ormone hai sbagliato allora senta proviamo a trovare un modo per uscire da qui che io la devo portare in galera come siamo non lo so mi sono imbriacato mentre la portavo in galera non so neanche chi sia lei magari è lei il poliziotto e io sono in realtà il marino ok io provo a passare di qua aspetti ecco ce l'ho fatta c'è la ventola che mi butta contro vabbè guardi che roba c'è la ventola che mi butta giù non è possibile niente dobbiamo bloccarla andiamo di forza brutale quello che stavo cercando di fare mi dia una mano piano ok pi indietro no aspetti metta giù non faccia follie ok ok aspetti 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 che lo blocchiamo quasi eeeh eeeh provetti proprio siamo provetti visto passi lei che si si blocca a caso ma io no 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 vai 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 vado io ah no ha cavato il coso no lo rimetta lo rimetta aspetta non lo riattacchi come è attaccato alla ventola che chiaramente è molto pericoloso ah 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 aiuto aiuto non mi piace sta giostra spenga tutto spenga tutto che è pericolosissimo parà parà no 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 aiuto io ti aiuto io no no quel palo perpigliavo a me a momenti eh no senta vuole che arrivo io ah ah ok così è molto meglio ho stato bravo venga troviamo una via d'uscita assieme zimia allora fai una bella cosa mi sa che ci servono i i cavi ha portato i cavi ho fatto bene a vandalizzare il posto no ma cosa ma cosa mi ha permesso prende i cavi prende i cavi io sono un nuovo rapper di questa situazione ah credevo se è solo una persona che si veste male ma vabbè il mio potere è forte io ho i cavi ok guarda ah se è forte cosa fa ho i cavi nel potere ma perché devo restare sempre quelli strani no ce la fa ce la fa brava brava ok guardatemi ma cos'è ma dove fa si è bloccata coi cavi aspetti ma forno che proviamo a collegare ce la fa aspetti no mi dia il cavo ok uno è collegato cos'è successo io sono strangolato credo il mio cavo la metta dentro il buchino non sono pratica no quasi sicuro che non l'ha bevuto ieri sera no la vedo olè perfetto non mi dica che c'è un altro cancello no c'è un altro cancello ma come ah ah spi c'è uno già i cavi ma non c'è la come lo apriamo aspetti no non faccia follie non faccia follie no perché i suicidi li becco sempre io aspetta casuta imbecille ah ok prima del previsto me la da una mano mi da una mano perfetto io ho portato il cassone con la birra come no guardi credo sia una batteria eh senta in nome della scienza eh se colleghiamo la batteria su se stessa che succede senta io sono un po' ricchi e morti un po' ricchi e un po' morti cioè sono ancora vivo lui la batte la batteria no 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 aspetti mi si fidi cosa ha fatto aspetti aspetti ahahah porco cane ahahah mi sono cagato in mano ahahah mi sono cagato in mano no aspetta si è bagatissimo il rosso prima che succede era arrivato mi sono spaventatissimo cosa che è ok avevo sbloccato una tibet si mi sono cagato in mano eeeh ma tu nel colpo che non mi son preso hai voluto prendere la 320 no no qua era anche la 460 mi sa guarda che praticità guardi 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 come lo inserisco io il cavo della batteria beh no ce la faccio non mi rida in parte ce l'ho un po' c'ho il cavo moscio ho una certa età ok perchè c'ho il cavo che mi sta toccando c'ho il cavo che mi falpeggia oh ce l'ho fatta no ma la cosa divertente è vabbè 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 sono incontrato dove si sta aprendo al contrario ah no ok si apre verso di là ho il cancello volante mi sono spaventato no ma siamo noi che abbiamo messo il contrario si allora si è aperto al contrario si è aperto verso di là si doveva aprire verso l'altra parte vedi di là si è ho bagato il gioco abbiamo bagato il gioco ok io l'avevo fatto apposta ok allora qua c'è una porta c'è un pulsante c'è un pulsante che apre la porta vada lei ok vada 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 oh che peccato aspetti alieni siete voi no infatti infatti io come entro alieni oh c'è una leva c'è una leva tiri la leva ce l'ha fatta cosa ho fatto no non mi ha aperto la porta scusi eh signorina assistente mi dia una mano oh no cosa sta andando avanti ciao no non vado avanti non vado avanti aspetti aspetti si è bloccata sulla porta si è bloccata veramente sulla porta ciao ok le sta bene aspetti che mi sa adesso rimane lì mentre io cerco di ma porco io passo ho detto che passo e passerò ha cercato di fregare il gioco non si frega il gioco aspetti che arrivo aspetti che arrivo oh ma guarda questo è il tipico assistentum bloccatus che io adesso lascerò lì perché mi sa che c'è oh c'era la scatola là sopra guarda il mio schermo le faccio vedere i professionisti al lavoro adesso le faccio vedere i professionisti porti pazienza mi liberi prima no 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 ormai la lascio lì ho la zampina incastrata allora aspetti provo a tirarla ho la zampina aspetti provo a tirarla ho la zampina se riuscite a incastrare la porta allora venga venga verso di me venga verso di me vai ok ho la zampina rotta mi dai un bacino no 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 mi suicido cosa fa ma no 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 mi ha fatto mancare il salto dobbiamo recuperare la scatola lassù avanti quale scatola c'è una scatola sopra la allora aspetta aspetta scusami non la cattiveria però ha ferrato no perché ha fermato riaccenda ah dove ho lasciato riaccenda scusami sono bloccato sul vuoto scusami sta tirando il muro sta tirando il muro una manina per volta ho preso la neve guardi se mi dava un secondo le mandavo un video su youtube su come si tirano le leve un tutorial no in teoria ce la faccio aspetti 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 olio cuore ah sono dentro sono dentro il meccanismo aiuto olè ecco che arrivo con la scatola ecco che arrivo con la scatola oh che è successo mi sono spaventato fatto ciao visto è andato tutto come nei miei piani si immagino un'altra leva quel cancello laggiù non lo vedo bene comunque un'altra leva alza la leva cronca alza la leva cronca scusi scusi c'è tipo manca corrente qua ah no ho capito dove devo andare che sto facendo venite con me mi dia una mano a ricaricare la batteria vai via che devo infilare cose no no questo è un canale family friendly non è vero mai la vita family friendly petti vieni qua che ti devo infilare doppio doppietta petti 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 ok ok ricaricata no aspetta un'idea stacco solo questi due anch'io ho avuto la stessa idea stacco il cavo aspetti no quello era il mio ci siamo capiti dammi quello rosso ok aspetti che io le porto la batteria ok ok io ce l'ho fatta manca solo lei no più in basso ce la può fare più a destra troppo ok tiri la leva ha lei l'onore di tirare la leva quei broccoli cronk cos'era abbassa la leva no 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 ah sono passato io aspetti 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 le blocco la porta le blocco no non ce l'ho fatta che sta tirando la levetta no cosa fa ma la levetta mi sa che dobbiamo collegare i cavi prima scusi io ho detto che tira la levetta ciao è fuori di testa non mi ricordo perché la devo portare in carcere ma un motivo prima che finiamo il livello lo trovo ok il mio cavo è tutto ecco questo è quello che succede quando l'assistente date troppa cioccolata il mio cavo è tutto ok aspetti aspetti si levi lo azendo io si ma ok dammi idea un secondo eh fuori di testa di assistente gna 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 aspetti ok wow ce l'hai fatta gna 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 ce l'hai fatta bravissima bravissima fumatossico ah ok questo è più difficile mi sa eh io guido io aspetti ok guido io guido io ho la patente non è vero mai nella vita lei è deficiente non ha la patente ho la patente differenza tua ma co no è differente punto ci sono tanti cavi no no oh mio dio aspetti aspetti mi sa che qua dobbiamo essere in due eh aspetta allora che ha fatto? uh con questo alzo il coso no aspetti il volante il volante allora lei tenga il volante io giustisco le marci ok aspetti ho girato male guidi guidi no ha perso l'altro lato guardi che non mi fermo eh sono per la terapia d'urto per la guida ce la può fare guardi che sei vicino allo strapiombo eh ma no aspetti aspetti no mi faccio andare dietro mi faccio andare dietro ahm ahm lo giuro io la patente aspetti la tiro io la tiro io si fidi oh no funziona è solo attrazione anteriore che brutta cosa no 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 mi tiri su mi tiri su mi tiri su aiuto aspetti no mi tiri su aia aspetti aspetti ok sono salvo sono salvo scusa ci sta cosa sta ahm guarda voglio dimagrire sa com'è eh ma che che brutto metodo aspetti provo a girare il volante magari combiniamo in qualche modo ah facciamo una bella cosa proviamo tutti e due a buttarla di sotto ok ci sto da dietro da dietro vada vada spenga 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 se riusciamo a buttare la macchina di sotto è fatta eliminiamo le prove mi dica quando mollare mi dica quando mollare guarda aspetti io ho molato ho molato una scureggia mentre cadevo tra un po' arriva anche la scureggia ok ok allora facciamo che sappiamo cosa non dobbiamo fare adesso ok i coglioni che aspetta prima apro la levetta la ah ma dobbiamo portare quella si dobbiamo portare il generatore ah io pensavo che dovevo sfondare la porta ehi non è una cattiva idea se mettiamo i cosi i denti lì come cavolo si chiamano sotto possiamo tirare verso l'alto andiamo allora io tiro la leva io abbasso la levetta e lei gira il volante allora aspetta che devo capire come si volanta come si volanta come si volanta ok ok vada pronta aspetta ce la può fare ce la può fare dai non è male un po' verso sinistra buono un po' verso destra oh vede vede non è male cos'è sta mangiando la leva con le tette non mi tiri sulla leva non funziona tanto bene aspetti aspetti no che sta usando le tette devo usare il potere del braccio visto ciao visto no aspetta tira giù tira giù no aspetta no aspetta no aspetta no aspetta no aspetta no aspetta bravo cron ok a foto no aspetta aspetta era da tenere scusi era da tenere la leva non sapevo ma come faccio aspetta aspetta le ritiro la leva ok grazie ecco fatto posto oh madonna scusi scusi sta bene molla la leva ok molla la leva oh madonna che azione pro che azione pro la mia faccia dice tutto aspetta aspetta che provo a coordinare la leva eh ok vada 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 si fidi sono un critico corri 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 ok visto ok cosa abbiamo fatto no non si sposta così le leva io intanto bevo ce la fa ce la fa ce la fa ce la fa no più a sinistra quasi quasi ok cosa ho attivato ah no gira qualcosa lassù gira qualcosa lassù vede no questo simbolo che sto facendo un attimino ambiguo ma vabbè non importa allora chi va a recuperare la sca ok ora fai come prima ehm cosa guardi che non ho punti qua eh come no la uso come scaletta no aspetta si grappi a me si grappi a me aspetta 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 facciamo una cosa interessante se mi grappo io a lei come risolviamo la situazione ora deve tornare su e sfida non la la non mi lasci andare avrà un poliziotto sulla coscienza ma come ma come allora se lei mi gira mi butta di sotto io dovrei far tutto lei mi girerà io finirò di sotto e dovrò rifare tutto vero tira la scatola io mi voglio fidare non mi fido ho paura ahhhh guardi lo sapevo cosa ha girato all'ultimo ma non è vero io non ho girato all'ultimo ho le prove vaide ole ok dove stiamo andando peraltro leva ancora leve oh no aspetti ma manca corrente qua leva 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 ahhh ci sono cose ah la batteria è di la signorina scusi la batteria è di la e la si sono i cavi oh porco cane allora io tiro la leva e stavolta va a lei ecco qua vada vada c'è tutto il mondo che la sta guardando no anche l'altro braccino le mani ahhh oh buono buono ah la lascio fare la lascio fare io ho paura sono qua che tocco con l'elettricità ahhhh ecco qua intanto mi prendo avanti con la cosa dove sta andando adesso io farò il mio piano malefico ahhhh oh ha preso i cavi veramente ahhhh dimmi che li spawniamo insieme non sono i cavi i cavi sono respawnati lassù no non sono respawnati ahhh ah ok sono arrivati la mia idea era prendi il cavo e dopo trascina la batteria non era male come idea su le mani alto dal pudore no alto dal pudore no ormai ce lo si è ingiocato il pudore aspetta cosa sta facendo guardi che non è ginnastica eh o mission impossible 2 cos'è successo mi venga a prendere la batteria venga a prendere la batteria ah quasi lei deve cercare di prendere la batteria mentre io sto arrivando no lei collega i cavi ok ah era un'altra mano ok adesso controllerà il personaggio con i piedi cosa sta facendo ok ce l'ho fatto allora quando io salto per la batteria e la mollo e lei la prende ok ok io mi ho messo 4 già con le manine pronte effetti 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 batteria aspettami pronta eh no non ho preso batteria effetti arrivo 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 la prende la prende la prende ha preso me ha preso me tiri 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 no 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 non molli non molli ci siamo ah visto hai visto che la posizione del gamberetto ha funzionato onestamente non doveva andare così mi è andata abbastanza bene non ridi sono rimasto così a cazzeggiare con il brazzo al sacco ok ho problemi di coordinazione tu vedi che ce l'ho fatta ad aprire la porta no guardi che non credo sia merito non si prenda meriti ce l'ho fatta non si prenda meriti ok dove siamo stavolta ma sei qua di prima si tutta sta fatica per essere qua di prima ah dovevamo portarci la batteria di qua ok aspetta 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 porti di qua la è ancora appesa lei allora aspetta 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 signorina porti passi abbiamo nooo siamo dimenticati siamo dimenticati che siamo dimenticati che no aspetta l'idea è il di uso da la mi segui io so cosa fare ok ok aspetta eh beh si guardi che serve la batteria non servono i cavi eh servono anche i cavi eh ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce la faccio aia ok no ha chiuso la porta aspetta mi ha chiuso la porta cosa io so cosa fare non direi ok aspetta che si mi despona la batteria ok mio dio mi sta venendo il panico io so cosa fare i peggiori elettricisti della storia cosa sta facendo io ho un cavo ma sono lì i cavi sono lì dietro di lei io lo cavo lo stesso eh ma perchè tra la 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 ok ok aspetta aspetta no si levi no mi cavi mi deve levare il cavo mi dia wow assistente perchè guardi che si hanno esponato i cavi aia cosa è successo dove siamo guardi dove è esponato il cavo rosso guardi assistente perchè la porta è chiusa assistente mi ha buggato la mappa assistente mi ha buggato la mappa perchè ha tolto la scatola da di la siamo bloccati qua ahahah siamo bloccati qua l'assistente è riuscita a buggare la mappa altora 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 eeeh eeeh dobbiamo rifare tutto da capo no no fidati io so cosa farò no no tirati su porta porta tirati su ti prego dobbiamo rifare tutto da capo nooo apriti ma io non pensare no 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 non la rifaccio da capo mi dispiace perchè ma non lo sapevo adesso lo sa non si gioca con l'enticina no questa la tiro su questa la tiro su dove sta oh l'idea non è cattiva in effetti aspetta l'idea non è cattiva aspetti aspetti che c'ho l'abilità nel porco eeeh eeeh ma che faccio butto la scatola di sotto butto la scatola di sotto no va bene dai sono una persona cosa fate mi è svenuta l'assistente ecco qua perso per un attimo la condizione no io le giuro l'assistente stavo stavo per andar via stavo per andar via ok ho già rifatto mappe da solo è stato traumatico mi da una mano a metterlo dentro l'attore con problemi tarala taralalalalala guardi io le giuro se riesco a farle prendere la 220 come ha fatto a fare corto prima peraltro perchè ho messo lo stesso filo nella stessa foto ma perchè perchè non c'è collegato aia ah cosa fa ha fatto contatto con la batteria io sono elettrico oh dove siamo sono elettrico aaaaa guida mia cosa guida mia no lei non guida no lei non guida io ho genuinamente paura guida mia eh prima di guidarmi l'auto controlliamo quello che dobbiamo fare eh qua ci sono delle cosa è sta roba petti 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 ah 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 oh mi sa che le dobbiamo alimentare no assistente eh assistente no 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 assistente assistente no dove sto andando non lo so aspetta allora allora facciamo una bella cosa faccio la retro mi guardi la retro no fa anche bip bip in retro allora devo andare no volevo mettere le mani a ore 10 alle 10 e 10 aspetti sto vomitando sul volante ok no scusi 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 non riesco no guidi in avanti sposti la leva in avanti la leva in avanti ma il buro si può scaricare come si può scaricare come fa a saperlo perchè ho visto la leva ah si ma non c'è nulla è vuota alza la leva crocci no scusi tiri giù la leva perfetto devo andare avanti da solo io in teoria si ok la marcia l'ho messa ciao che sto facendo assistente mi sto bloccando no stiamo andando avanti eh ok l'affitto di leccarmi le ruote vuol darmi una mano si la leccatura delle ruote è a posto abbiamo già fatto fare il controllo eh nemmeno l'ho fatta ok ok allora mi controllo adesso io tiro la leva ok ce la puoi fare con un braccino solo ok vado avanti 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 ok vedo delle robe laggiù dobbiamo andare in montagna guidi bene dai signor si si ma va spinga spinga la leva vada 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 si fidi guardi che ho guidato le navi di schiatino nello corso episodio di viri 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 facciamo tutto il braccio indietro no non indietro non indietro sia sullo strapiombo non faccia follie la butto di sotto giuro ho ucciso assistenti per molto meno guarda petti cosa sta facendo come tiene le leva lei scusi io le nascondo nascondo la leva non fagli capire che stai in realtà comandando tu ecco che è partito no 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 petti petti troppo veloce troppo veloce ok non so cosa ho fatto si ma se non si levano ricostezzare non ricostezzare si levi si levi ok vado avanti ma piano ma piano 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 che c'è il palo della luce allora petti facciamo una cosa andiamo in retro andiamo in retro ok ora ferma metti in folle perfetto piano piano non lo so guarda no ok ce la faccio ce la faccio no c'ho paura per lo strapiombo non voglio rifare la strada ok 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 vada 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 siamo arrivati siamo arrivati però c'era la quarta mano c'era un altro carello qua non mi dico me lo son portato fin qua per niente piano piano rallenti 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 molli 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 perfetto perfetto parcheggio perfetto oh mio dio si ma tutta sta fatica potevamo venire a piedi c'era il coso qui della miniera ma anche lei quella leva me la tiri di più la prossima volta non lo sapevo io ero lì che la guardavo ma mi sembrava stranamente lento il veicolo eh posso prendere fuoco no oh porco cane no mi molli no patti carbone più fuoco non mi pare una buona idea allora venga a spalare qua carbone mi sa che dobbiamo portare tutto il carbone sulla sulla cosa qua dietro eh no assistente no assistente carbone più fuoco è una pessima idea io si fidi so cosa faccio no madonna per un secondo mi sono cacato per un secondo mi sono cacato mi dia una mano forza dobbiamo portare via tutto sto carbone che sta facendo no ok si porta dietro anche la torcia mi sa che dobbiamo alimentare tutte e tre quelle oh quelle cavolo di fornaci io mi lancio sul carbone se mi sembro io quando vado a fare shopping la 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 ah lei lancia proprio al game stop la 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 ma cos'è ma cos'è ho i sacchetti dei giochi io vado in giro così per il negozio la 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 e se c'è 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 inrico volare osce dai screaming vedi Guardi che lo aeree è stato portato guida no mi sembra la pubblicità del Amaro Montenegra Maruru montenegra dove ho la mano guardi dove ho la mano ciolo guardi dove ho la mano no non finiscono in carne nel furgone non ficare il furgone ciao lon io sono un pezzo di ca ciao lon no guardio che finisce ciao lon Oh mio Dio, c'è la torcia che sta bloccando il carbone Metta bene bene il carbone No, facciamo una cosa Io lo butto da qua e lei mette a posto il carbone Ma che tristezza Da puliziotto a carbonaro sono diventato Aspetta che vado a sbloccare il carbone Perché qualche deficiente lo sta bloccando Ha buttato una torcia E questi puliziotti No, sono un puliziotto differente, capito Però non deficiente Prima devo mimetizzarmi Con il carbone Il carbone non sopprirà mai Ho l'assistente sotto copertura Ma vabbè Cosa sta Ma perché Ma perché Ho bloccato il carbone Cosa sta No, è tutto bloccato Aspetta, carbone Carbone, io sono differente No, è deficiente, gliel'ho già detto Come siamo messi il carbone Guarda le fiamme Cerchi di sbloccarlo Cerchi di sbloccare tutto Guardi il carbone, guarda il carbone che ha bloccato Adesso sblocco tutto Sblocco tutto, cado giù anch'io Ho sbloccato Ho sbloccato? Arrivo? Ho sbloccato Ok, a posto Ho sbloccato io Sì, l'ho sbloccato Sì, l'ho sbloccato Sì, è stato bravo Ok, aspetta Oh no Dobbiamo fare retromarcia Arrivo, arrivo E arrivo staccio No, dobbiamo fare marcia prima Se si bugga Ok, fermo, 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 fermo Aspetta No, no, fermi tutto Ok, ora vado in retro Ora vado in retro Aspetta che non voliamo di sotto Stiamo perdendo anche carbone, ma vabbè C'è un gergerissimo principio di incendio dietro Ok, fermo, fermo No, 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 no Aspetta, ti devo girare il volante Ok, vado avanti Ok Tutto dritto Aspetta Si deve cavare Come è sterzo se non si cava? Sono traumatizzato nel profondo Come cacchio sei guidato? Te è buona Non giudichi il mio stile di guida Si chiama senza patente E con 20 denunce e 4 omicidi Io ho quasi anni di patente Ho quasi? Anni di patente Quanti anni? Non te lo dico perché se no scopri la mia età Ok, ok Ok, ok Buono, buono Io sono paura Però non sono più minorenne Beh, spero bene Ok, piano Piano, 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 piano Troppo, troppo, troppo Troppo, troppo, troppo Troppo, troppo Vada Piano Troppo No, non indietro, avanti Perché? Perché mi sta in mezzo alle scatole Eh, devo stanzare Guarda L'uscita Ah, l'uscita è di là Ok Doviamo passare sopra le tre cose allora Non avevo visto il disegnino Adesso l'hai visto Vada No, piano, fermi Fermi, 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 fermi Fermi Ok, vada, 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 vada Sto da sto lato Sto provando ad andare Ok, no Aspetti 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 No, vado avanti Vado avanti Vado avanti Vado avanti No, 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 no Ferti Come lo fermo? Devi metterla, metterla, leva Aspetti, ho paura, ho paura Levala, leva Aspetti, ce la faccio Mi sto cacando tantissimo Mi sto cacando tantissimo Oh oh, in discesa andrà più veloce Levati Venga su comunque Non so come salire Mi ha lasciato giù C'è un principale iniziativo Non voglio ignorarlo, che è meglio Aspettate 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 Vi giuro, mi sto cacando No, 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 no Sono bloccato male Sono bloccato male Aspettate, finisco fuori strada Ok Cosa fatti tra il principio di incendio anche lei Sto cercando di scelire No, che devo spegnere l'incendio con gli sputi Ok Tu vai avanti No, le giuro Io sono profondamente traumatizzato No, 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 no Ragazzi, voi non avete idea Io ho paura in questo momento Secondo me dobbiamo animare Ah È da là sopra che dobbiamo su uscire Su uscire Sto usando il carretto per andare avanti Sì Guarda, mi arrabbio io Oh, le Oh, non è male Aspetti, aspetti, aspetti Vieni Ok Ok, non è male Soprì avanti Troppo, troppo, troppo Troppo, troppo Aspetti Sì Come si blocca? Sto Ok Ce l'ho fatta Adesso si fidi di me Io so cosa fare Oh mio No, vi giuro sono traumatizzato Aspetti che io apro le cose intanto Lei apre i cassoni dietro Ok Oh, questo è già a posto Mi sa Ok Oh L'indicatore è sopra L'indicatore è sopra Quando buttiamo carbone Va su un pochettino Aspetti Non troppo, non troppo Evitiamo di sprecarlo Perché sennò dobbiamo tornare indietro Non butti me dentro il fuoco Ho detto Non butti me dentro il fuoco Ah, 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 ah Aiuto Io vado Mi faccio scendere Ho avuto paura Ok Questo è a posto Questo è a posto Apro la No, devi aprire il bocchettone Aspetti Gli do una mano io Ok, vado dentro anch'io Allora, quindi ho fatto bene a portarmi l'incendio Sì, 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 sì Ha fatto bene Vedi che non capivi il mio incendio Ma cosa? Mi sa che abbiamo portato anche troppo carbone, onestamente Il mio incendio è differente No, il suo incendio È assistente piromane Assistente passioni incendio improvviso Adesso faccio una cosa bellissima Che solo pochi capiranno assistente 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 dobbiamo tornarsi dobbiamo tornarsi volevo andare a accendere le olimpiade no le do io le accendo io porco cane le do dopo fuoco ok non accenda mentre sono io dentro cortesemente sono Harry Potter aspetti non mentre sono dentro ah non l'è partito ah è partito mi faccio uscire ok ancora uno dentro quella centrale mai più con lei e voilà buono non so cosa abbiamo fatto ma dovremmo averlo fatto abbiamo fatto danni assistente aspetti aspetti aspetta aspetta aiuto mi sono spaventatissimo aspetta aspetta venga venga segua il mio culo ce l'ho fatta no perchè dove fa dove perchè aspetta ok ok mi dia una mano mi dia una mano mi dia una mano ok grazie salti di là salta di là si butti si butti aspetta se solo io la vedo guarda cosa normale la mia gravità è differente e cosa hai fatto aspetti aspetti no 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 sono caduto di sotto ecco ti pareva l'ultima arrivata e mi batte no tanto non ce la fa ce la fa incredibile assistente oh 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 no ah la torcia in faccia il dolore in male la sua torcia mi ha bloccato tantissimo ok aspetti scusi l'ho usata come il manzino ah che fa che fa palpeggia sono per le forze dell'ordine oddio dov'è l'uscita scusi siamo vicini dobbiamo saltare dove no aspetti aspetti sono grappato male ah ah ok io sono dove fa assistente dove sta andando no ok ce la fa non mi tiri giù non mi tiri giù non voglio rifar tutto no sto cercando potrei aver sbagliato il salto un attimino aspetti ho trovato l'uscita assistente venga 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 cosa sta facendo quale si deve fare danza classica moderna non mi passo ce l'ha fatta no assistente no si butti sul cornicione sotto si butti sul cornicione c'è il cornicione su quale sono io buono buono ora si tiri sul culetto tiri sul culetto ok no ho una mano messa malissima aspetti le do no ma scusi non può uscire solo ah si posso uscire anche io arrivederci si sta no aspetti mi ripeto il momento oh mio dio è stato traumatico è stato profondamente traumatico ahia ah non è la stazione di polizia chiaramente la vedo un po' confusa attenzione che ce lo strapiombo dove siamo finiti questo mondo oh c'è un parco cosa fa siamo a un parco dove ti metti guardala non è guardala guarda 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 guardala guardala buono ok allora questo era un altro traumatico episodio di human for flat in compagnia di un assistente chiaramente di che di che non la sei tu no non sono sua nonna hai gli stessi barfi della nonna ah ok dicevo chiaramente in balia di un assistente che ha battuto la testa ripetutamente ancora prima dell'episodio quindi nei commenti fateci sapere cosa ne pensate assistente non faccia danni assistente non faccia dove l'ha mandato assistente mi sta facendo danni no ok meglio così dove cavolo ah mi sei che ha fatto danni no assistente fatto danno io spero che l'episodio vi sia piaciuto quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie candidati di sfogliare il canale a crescere e noi ci rivedremo a gardaland no non è gardaland in un prossimo episodio ciao ciao dove sei non è sua nonna non sono sua nonna sulle mani sulle mani sulle mani sulle mani ok io concludo perché mi mette paura mi fa ansia